bentornati a tutti quanti su canabufiuratu sempre il vostro jason allora ragazzi volevo fare un video mi ha detto anche un po' l'ombra perchè comunque ora ho deciso la finestra aperta fa ancora caldo volevo fare un video di teorie rapide su strength surfing 64 ormai domani esso ufficialmente su netflix la prima parte di questa penultima stagione che darà inizio al gran finale della serie dove la minassa grossa qui è il vecna che è quella creatura che vediamo nel trailer che è senziente capace di parlare tutto e quello secondo me sarà il boss finale domani comunque il 17 maggio arriverà la prima parte della quarta stagione e il primo luglio la seconda parte domani avremo una puntata dalla 1 alla 7 mentre il primo luglio arriverà le puntate 8 e 9 gli ultimi due allora ragazzi paradossalmente passiamo rapidamente qualcosa di rapido per dividere le mie teorie uno chi è chi potrebbe essere il vecna io ho già delle ipotesi molti concordano sul fatto che potrebbe essere veramente una variante di 11 io sono sempre più convinto invece che si tratti semplicemente di un esperimento di laboratorio che scopriamo che tutto quello che ha a fare con il laboratorio di Hawkins nel sottosopra ha creato quell'universo lì abitato da Mossi perché in realtà il sottosopra è nato che un universo parallelo ma non si è mai stato spiegato specialmente che cos'è quindi sono molto convinto che in questa quarta stagione lo spiegheranno oppure lo spiego nel finale verrà proprio nell'ultima stagione e appunto sono convinto che sia un esperimento di laboratorio che tutte le creature che vediamo sono qualcosa sfuggito di mano e secondo me i democorgon sono esseri umani che in qualche modo si sono trasformati in quel mondo il vecna lo vedo troppo umanizzato quindi paradossalmente secondo me è una creatura umanizzata trasformata in mostro però mai dire mai può essere che sia tutt'altro altre cose chi morirà in questa stagione io sono convinto che la salsia e penne sarà un personaggio che deve farti piangere perché comunque hanno detto i fratelli Duffer che qualcuno importante si lascerà non hanno chiarito se in questa o nell'ultima stagione io credo di prepararsi a un sacrificio di undisi però nel finale della quinta per chiudere proprio un sacrificio di undisi sì lo so che in repetitivo ammassare sempre il personaggio principale però ragazzi devono farti piangere devono farti soffrire il finale non può essere tutto rose e fiori quindi undisi potrebbe essere veramente tanto rischio non tanto qui perché lei servirà appunto per fermare il Vecna ma tanto quanto nel curita stagione nel sacrificio del combattimento finale contro lui perché fidatevi il Vecna qui non lo fermano lo fermeranno nella quinta si capisce troppo chiaramente che lui è il boss finale perché tra l'altro è una di quelle cose proprio nuove che non abbiamo mai visto e secondo me qui a rischio se Max che la vedo un po' troppo legata sotto sopra poi Steve potrebbe essere un personaggio anche lui tibutante ma Steve se muoiono se lo ammassano a me dispiace sarebbe un botto in effetti perché mi piace come personaggio del solato evolutivo poi se Zonata è il fratello di Will Will stesso che più di un'occasione ha fatto che fare col sotto sopra rischiato la vita quindi non lo so sono un po' tutti quanti a rischio ragazzi i personaggi bisogna capire bene chi vogliono farti soffrire di più di tutti gli altri poi altra cosa interessante è capire come salveranno Hopper perché quello sappiamo non so se andrà in Russia col tesso aquila pelata lo chiamano se non mi ricordo come si chiama il personaggio per salvare Hopper che in questo momento nel trailer si deve combattere contro i demogorgoni e siate tranquilli che qui si parla dell'arrivo di una guerra che non riguarderà più Hawkins ma riguarderà tutto il pianeta state a vedere che i russi riescono ad aprire il barco le sottosopra liberano le creature le sottosopra e tutto quanto e vedrete che nel filane della stagione come sto già dissendo da una valangata di tempo anche parlandone con i miei amici secondo me il finale sarà questo i russi riescono a riportare sottosopra scatenano sottosopra il Vecna si libera totalmente e invadono quelle creature il mondo di Hawkins la stagione di Hawkins sopra ma tutto il pianeta anche quindi i russi diciamo che il loro scopo è quello di usare il sottosopra a scopi di guerra per combattere e già nella terza si capiva bene che avevano cercando di capire cosa era questo mondo come sfruttare le creature che lo abitavano infatti in quella casa sottosopra un democorgone nella gabbia come se fosse un normale gorilla per dirvi quindi gli studi li stanno facendo gli scienziati russi secondo me è qualcosa di interessante non vedo veramente l'ora domani è finalmente arrivato il giorno che tanto aspettavo da tantissime è vero che domani debutta anche Obi-Wan sul plus per Obi-Wan lo recupererò la settimana prossima ragazzi la stagione non la guarderò tutta in fila me la voglio guardare un po' per volta con i miei mesi quindi domani guarderemo le prime tre puntate poi lunedì le altre due e martedì le ultime due quindi fino alla sette e poi primo luglio vedremo le ultime due quindi la recensione della prima parte arriverà in settimana prossima mentre la recensione completa col finale il voto e tutto al 2-3 luglio dipende quanto tempo si piega a vedere le ultime due puntate perché non ti credo il voto adesso se la stagione non è ancora finita quindi farò la recensione della prima parte e quando sia la seconda parte recensirò completamente tutta quanta la stagione facendo magari qualche spoiler e mettendo il voto perché non mi va di fare due recensioni a caso così quindi voglio essere un po' più esplicito su questa situazione fatemi sapere un po' nel commento sotto quanta ne pensi patate per Stradefix chi abita a Milano stasera 21.30 anteprima al Duomo mi raccomando per il primo episodio viene approfittata la prima puntata di Stradefix anteprima a Milano quindi per chi non è a Milano chi non può andare all'interprima sia attento ai social perché da stasera verso le 11 si meserò e risseranno a bombardare di spoiler la prima puntata quindi io non aprirò per niente i social fino a domani né youtube non userò queste due cose perché appena apro youtube scateneranno un sacco di roba liccata o fotografata lì da Milano e messa su qualche youtuber e lo mette su youtube e non voglio vedere un cavolo io quindi domani youtube sarà in stand by non voglio proprio aprire né youtube né facebook né tutti i social lascerò tutto quanto spento mi godrò Stradefix e quando sarà finita di vedere la fine della settima puntata vi farò la recensione senza rispoilere quindi per chi non ha ancora visto la stagione può stare tranquillo fatemi sapere un commento di sotto cosa ne pensate di questo Stradefix 4 quanto lo state aspettando io ovviamente è la serie più attesa di quest'anno per me quindi finalmente ci siamo alleluia e mi raccomando iscrivetevi al canale e seguiteci su tiktok ciao a tutti